La ricerca. Espansione semantica o sinonimia. Il nuovo motore di ricerca BigSuite estende in automatico ogni ricerca anche ai sinonimi e a espressioni tratte dal linguaggio comune con il medesimo significato, per ottenere un risultato ancora più completo. Scriviamo spesometro nella maschera di ricerca. Sono automaticamente inclusi nella ricerca i sinonimi di spesometro e, in particolare, comunicazione e operazioni rilevanti, il termine giuridicamente corretto con cui è identificato l'adempimento nei documenti ufficiali. I sinonimi compresi nella ricerca sono declinati al singolare e al plurale. Per escludere un sinonimo dalla ricerca è sufficiente disattivare il flag. Riavviando la ricerca si ottiene la nuova lista di risultati. I termini e i sinonimi compresi nella ricerca saranno evidenziati in rosso all'interno dei documenti. È il cosiddetto Word in Context. Con la ricerca semantica sono certo di non perdermi nulla e di poter utilizzare nella ricerca anche il linguaggio quotidiano. BigSuite è la banca dati che capisce il mio linguaggio.